Il terminal container di Malta non riesce a smaltire tutto e così la CMA CGM, compagnia francese, sposta le navi a Taranto, 11 per ora alle unità interessate tra quelle arrivate e in arrivo. La scelta di Taranto non è casuale in quanto il gruppo turco Ilport che gestisce in concessione da circa due anni l'infrastruttura pugliese controlla in parte anche la CMA CGM. Quest'ultima sta effettuando a Taranto una serie di scali temporanei in alternativa al porto maltese. Sinora sono state quattro le navi attraccate al molo polisettoriale, sede operativa del terminal. Lo scalo delle quattro navi CMA CGM ha portato a Taranto e alla società concessionaria San Cataldo Container Terminal, braccio operativo di Ilport, lo sbarco di alcune migliaia di TEU aggiuntivi oltre al nuovo lavoro per il personale del terminal, circa 100 addetti. Le navi dirottate da Malta a Taranto sono anche impiegate nei servizi di linea fra Mar Nero, Mediterraneo e Marocco, fra Turchia e Nord Europa. Sono ora attese altre sette navi fino al prossimo 12 gennaio. Alla guida del terminal Ilport, dopo l'uscita della manager Raffaela Delprete, avvenuta a metà dicembre, si è insediato Nicola Sartini da un anno ai vertici di Ilport. Da vedere se la guida del terminal da parte di Sartini costituisce il dopo del prete oppure sarà soltanto temporanea. Grazie a tutti.